Eccoci qua per questo nuovo video. Oggi siamo in ALMA, la scuola italiana della cucina internazionale e siamo venuti qua per tenere questa lezione su quello che è il panorama italiano sui salumi e solo a Norcineria. ALMA è una struttura che si trova a Colorno, provincia di Parma ed è stata creata questa scuola esclusiva all'interno della reggia di Colorno. Come potete un po' vedere siamo proprio all'interno della reggia, adesso vi porterò nel cuore della reggia. Cos'è importante è fondamentale per tutto quello che è il panorama italiano essere in strutture del genere, ma soprattutto per il fattore di insegnare ai giovani chef del domani quello che sono le tradizioni e la Norcineria del nostro paese, ma soprattutto partendo da un'educazione che è quella dell'ingrediente. Quindi non sto parlando solo di un fattore esclusivo di carne, ma sto parlando di ogni singolo ingrediente che compone un prodotto. Sto parlando quello che per noi chiamiamo e definiamo il 360. Il 360 è un cerchio, è un cerchio che parte dal punto iniziale e concentricamente si va a chiudere, dove ogni singolo ingrediente è la massima espressione della territorialità e della genuinità. Facendo un 360 abbiamo un prodotto autentico e un prodotto di sicura qualità. Non possiamo pretendere di lavorare in un certo modo in allevamento per poi andare a sporcare o a contaminare quelle che sono tutte le caratteristiche del nostro prodotto. Quindi ai nuovi chef, ai nuovi crack o bottura del giorno del domani speriamo che in una parola, in un concetto o in quello che abbiamo potuto insegnare in questa lezione di essere riusciti perlomeno a lasciare qualcosa dentro di loro. Grazie.